Bello ragazzi, qui è il Cina e oggi siamo qui con il settimo episodio del Cina e Mondiali Venerdì scorso appunto c'è stato il video con l'ospite, con il Sector e quindi non abbiamo fatto il Cina e Mondiali ma oggi siamo qui finalmente come vedete ho cambiato un po' la squadra ho rimesso l'Ebas in TS perché in pratica veramente, guardate le statistiche ho tanto dato di velocità, comunque era meglio di altri giocatori Nocerino l'ho lasciato perché sinceramente ha dimostrato di essere un valido giocatore ho messo Goetz in COC voglio provare Close perché veramente mi avete detto tutti che è baggatissimo ultra mega iper baggato soprattutto di testa, infatti c'è 88 e il resto della squadra l'ho lasciata un po' così ovviamente ho messo Candreva perché comunque ha 86 di velocità e dimostra comunque di avere un tiro abbastanza potente e in difesa Aukbon e Papastopoulos che non possono mai mancare e infine in Porta Neuer ragazzi se ci va bene in questo episodio arriviamo in finale e vediamo però veramente guardate la semifinale è questa quindi dobbiamo essere concentrati al massimo perché questa squadra qua mi sa molto di schifezza con Diego Costa baggata, tutto quanto quindi stiamo tranquilli, attenti e gestiamo il pallone, con calma ovviamente il nostro joystick rotto non può mai mancare che lo spacco sempre ma forse adesso è talmente spaccato insultando gli arbitri e tutto riusciamo a fare una partita decente è il stadio di Maracanà entrano le squadre attenzione un saluto da Fabio Caressa e Beppe Bergomi sì Fabio ma dai vaffanculo Sergei Piputkin di merda anzi come si chiama? Marlen questo cazzo di giocatore come le mele basta averla la palla Marlen di merda sei una merda e adesso ti insulto così almeno faccio gol eccolo qui Close è partito è partito Close orco cane oh 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 che andreva vai 1 a 0 1 a 0 signori perché ho guardato la finestra non lo so 1 a 0 vai semifinale il gol il gol vai mamma mia Close che la piazza un pochettino e poi vabbè arriva che andreva di velocità cosa fa? cosa fa? dice basta a tutti ma vaffanculo è finito il primo tempo è finito il primo tempo dobbiamo resistere dobbiamo fare ancora un gol non si sa mai il calcio è strano Beppe il calcio è strano mamma mia pensavo forse rigore questo cazzo di Nani veramente mi sta facendo incazzare chi è che ha segnato? chi è che ha segnato? Pogba ma non ci credo ma guardate ma ci sono 20 giocatori ci sono 20 giocatori ragazzi vai corri corri Sam corri Sam che c'hai 91 dentro che andreva orco cane oh Goz Goz mamma mia il piastatone Goz Mario Mario Goz ragazzi lasciate un like ha aspettato 20 anni è perché gli ha fatto fallo quel bastardo mamma mia piazzatissimo nell'angolino Ogbonna devi correre Ogbonna cazzo 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 non ha corso Ogbonna cazzo quel cazzo di Diego Costa lo sapevo che faceva qualcosa arbitro di merda arbitro di merda guardate guarda che buco cazzo guardate Iclose oh oh il bug che cazzo hanno fatto il bug di merda che cazzo di gol schifoso però ce l'abbiamo fatta sembrava impossibile cos'è sta roba voglio rivedere il replay io però pensavo che Iclose andasse di testa invece è andato tipo l'uomo ragno Spider-Man e ha gestito tutto di testa no ancora ancora di testa no ancora cazzo ancora ma basta ma smettiamola dai abbiamo l'ultima azione no dai lasciami fare l'ultima azione ma non ci credo non ci credo cazzo ma vaffanculo Neuer vaffanculo eh dai su eh adesso sono sono devo devo pararla cazzo ancora lì nello stesso punto mamma mia eh ma ma l'ho dobbiamo pararla altrimenti ho perso ragazzi ho dato il massimo è veramente però se ci sono ste cagate oh l'ha sbagliata no ragazzi no ragazzi dopo questa momento di 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 tensione cazzo l'ha presa cazzo la parata no di perdere non è che sempre adesso accendo la playstation faccio miliardi di cose poi soprattutto se ci si mette questo cazzo di bug del cazzo che esiste ragazzi io ve lo continuerò a dire e veramente quando ognuno di voi molti l'hanno già provato e molti sanno che c'è ma quando ognuno di voi riuscirà a vederlo e a provarlo allora mi darete ragione davvero comunque per parlare di queste cazzate totali eccetera venite il 5 di luglio perché è di Firenze a Sesco Fiorentino appunto all'Euronics ci sarò lì dalle 10 e mezza alle 17 circa e quindi mi potete trovare lì fare delle foto giocare insieme a me fare questo torneo di FIFA 14 FIFA World Cup e con le nazionali mi sembra spero che in ogni caso il video vi sia piaciuto lasciate un like per il sostegno iscrivetevi se non l'avete già fatto sotto in descrizione c'è la mia pagina di Facebook ragazzi siate in tanti ad andare lì a farci visita perché pubblico foto e post e comunque è una parte della mia vita in pratica la pagina di Facebook quindi andateci a mettere un like così da seguirmi avere almeno in bacheca il Cina che scrive delle cazzate che pubblica delle foto a caso poi adesso che inizia anche appunto il tour pubblicherò un sacco di foto in ogni caso in descrizione il sito di crediti onefifa.com dove potete acquistare i vostri crediti con il 5% di sconto Cina in minuscolo andate a comprare perché adesso ci sono ancora in mondiale quindi potete trovare spacchettando i pacchetti vi voglio bene ragazzi un saluto dal Cina e ci vediamo domani bella ragazzi e poi molti commenti mi hanno scritto anche sarai al sudo in altre parti e io ho risposto che ci sarò appunto ma ve lo dirò un po' più avanti salto e sintonizzati salto e sintonizzati salto e sintonizzati